Stasera il nostro delitto non è solo imperfetto, è imperfettissimo, perché basta leggere le intercettazioni per sapere praticamente tutto dell'unica banda larga che funziona benissimo in Italia, che è quella delle opere pubbliche, anche perché sono quasi tutte vecchie conoscenze, pensate Ercole in calza, 71 anni, 15 inchieste all'attivo, ma era ancora lì, da pensionato, col contratto da co-co-co. Un altro che hanno beccato è Vito Bonsignore, che vent'anni fa si è preso una condanna per tentata corruzione, tentata perché l'avevano beccato un attimo prima che prendesse la tangente e quindi gli hanno deciso di dargli un'altra chance, insomma, e stavolta la potesse prendere. Ma si conoscono anche i colpevoli politici, non soltanto Lupi che se ne va, ma anche Renzi che resta, eppure aveva promesso di rottamare tutti e poi aveva messo alle infrastrutture lo stesso ministro del governo Letta, cioè Lupi. Poi gli ha lasciato prorogare in calza che era già indagato per il TAV Firenze-Bologna. Poi in calza ha lasciato scegliere pure i sottosegretari alle infrastrutture, due ex socialisti del PD, Nencini e del Basso De Caro, che a sua volta era l'avvocato di Craxi ed è indagato per peculato a Napoli. E quando è scaduto in calza, due mesi fa, gli ha fatto scegliere il successore, nella persona di un certo Signorini, che era già uscito nelle intercettazioni del Mose per essersi fatto pagare le vacanze al mare da mazza curati. Il guaio di Renzi è che non poteva chiedere le dimissioni a Lupi, infatti Lupi stasera ha detto non me le ha mica chieste Renzi, perché? Perché dal nuovo centro-destra gli rispondevano senti chi parla. Giovanardi gli aveva detto perché si parla del figlio di Lupi e non del padre di Renzi e del padre della Boschi? E quagliariello ieri sera aveva detto Renzi candida un condannato in primo grado De Luca in Campania e poi pretende che Lupi si dimetta senza essere neppure indagato. E la De Girolam è stata meravigliosa perché lei al dente avvenenato si era dovuta dimettere dal governo Letta. Renzi ha detto al Corriere ha superato il giustizialismo, ha messo nel suo governo degli indagati, ha candidato De Luca, mi auguro che prosegua in questo senso, cioè è molto migliorato ma se si impegna può fare di più. Ora Lupi se ne va spontaneamente ma dice che non capisce perché hanno tirato in ballo la sua famiglia, allora proviamo a spiegarlo. Perché? Perché il primo giorno si è scoperto che il manager Stefano Perotti aveva regalato a suo figlio il famoso Rolex da 10 mila euro per la laurea e poi il contratto di lavoro. Ma il problema è chi è Perotti. Perotti è sia socio di Incalza che dirige le grandi opere per 25 miliardi Perotti con costi che lievitavano fino al 40%, ma è anche un amico di famiglia del ministro Lupi che è stato invitato nella sua villa da Sonia a Firenze, l'avete vista in quello spot con Giulia Roberts con vista sulla città meravigliosa. Bene, che dice Lupi a quel proposito? Dice mi colpiscono negli affetti più cari, devo tirare fuori mio figlio Luca da questa storia, non ho mai chiesto a Perotti di farlo lavorare, sarebbe sbagliato, profondamente sbagliato e presumo che sarebbe anche reato. Luca si è laureato con 110 e lode, poi è andato a New York 6 mesi, è lì la storia che abbiamo raccontato prima, è entrato nello studio di progettazione, poi è entrato in Italia in attesa del visto, poi intanto ha fatto quel lavoretto così da poco per il cantiere di Perotti e poi è tornato in America, ma dice Lupi è vittima suo figlio di una discriminazione odiosa. Glielo dico sempre a Luca, purtroppo hai fatto ingegneria civile e ti sei trovato un padre ministro delle infrastrutture, deve essere una sfiga pazzesca di avere il padre ministro delle infrastrutture, perché dice Lupi se sei figlio di un politico puoi essere bravo quanto vuoi ma devi andartene, quindi il figlio Luca è una specie di emigrante, di esule, di cervello in fuga, tutto a causa del suo cognome, pensate, si chiama Lupi, poveretto. Poi purtroppo il secondo giorno e qui è la svolta, vengono fuori quelle intercettazioni che abbiamo ascoltato, che dimostrano due cose, primo, che a gennaio dell'anno scorso, appena laureato suo figlio, Lupi chiama in calza e gli manda il figlio in calza, scopre questo genio finora rimasto nascosto, decide che nonostante che si chiami Lupi bisogna premiare questo talento e allora chiama il Perotti, che naturalmente Perotti cosa può fare? Perotti deve tutto a in calza, in calza deve tutto a Lupi, quindi c'è da incontrare il figlio di Maurizio, lo incontriamo, naturalmente anche a Perotti basta guardarlo questo Lupino per restare immediatamente folgorato da questo genio e nonostante che sia il figlio del ministro, Perotti lo fa assumere dal cognato e allora il Lupino lo vedete, immaginatevelo col caschetto giallo che vaga per il cantiere Eni di San Donato milanese diretto da Perotti per conto del ministero di Lupi, è in calza, un mese fa gli scade il contratto e Perotti chiama un suo amico a New York perché se lo prenda un po' lui, chissà se l'avrà fatto o se non l'avrà fatto, comunque la storia finisce così, ma il problema qual è? È che Lupi il primo giorno ha raccontato un sacco di palle, il che già basterebbe in un altro paese per giustificare le sue dimissioni e qua non ci sono solo le palle, c'è anche altro e quell'altro non riguarda solo Lupi, ma riguarda tutto il governo, anzi tutti i governi degli ultimi anni, c'è un'autostrada, una delle tante, che si chiama Orte Mestre, forse è la più inutile e costosa che si sia mai vista nella storia delle autostrade inutili e costose d'Italia, 10 miliardi, chi è il proprietario? Vito Bonsignore che è uno che ogni tanto fa il politico, ogni tanto fa l'impresario, ma soprattutto fa l'imputato proprio e il condannato in servizio permanente effettivo, naturalmente è uno dei capi e dei padroni, degli azionisti del nuovo centrodestra e infatti Lupi che è del nuovo centrodestra è favorevolissimo all'autostrada di Bonsignore, la definisce in un'intervista memorabile un'opera strategica perché si aggancerà al corridoio europeo baltico-adriatico, cioè erano anni che tutti si domandavano che cosa aspettiamo a collegare Danzica e Tallin con Orte, è proprio un'esigenza sentita universalmente, la domanda è chi gli ha scritto quell'intervista a Lupi perché lui si faceva scrivere tutto da altri e non è l'unico, i politici parlano di primato della politica e poi il primato lo lasciano sempre ai burocrati e ai faccendieri senza avere nessuna possibilità nemmeno di toccare palla, figuriamoci di controllare quello che fanno, fino a un anno fa Lupi aveva un badante, si chiamava Luigi Grillo, poi gliel'hanno arrestato purtroppo per le mazzette di Expo e praticamente ci aveva preso gusto con questa cosa dell'esposizione del gusto e infatti mangiava proprio con una fame da Lupi, però gli era rimasto un altro badante a piede libero che era in calza, in calza stava un po' a Lupi come Lucio Battisti, come Mogò stava a Lucio Battisti, solo che Battisti poi ci metteva le musiche ed erano niente male, mentre Lupi ci metteva una marea di cazzate, sono due anni che si occupa di infrastrutture e non c'è ancora capito niente, sentite questa intercettazione che nasce da un'esigenza, Lupi il 28 dicembre 2013 deve dare un'intervista al Corriere della Sera, quelli gli chiedono delle grandi opere e lui non sa niente, allora fa come fanno i concorrenti dei telequiz, che comprano la consonante e poi chiamano l'amico a casa per l'aiutino, è una scena da Totò e Peppino, però purtroppo avviene dentro il nostro governo, un anno fa c'è Lupi che prende appunti, in calza che gli dà le ripetizioni al telefono ed è un'impresa disperata, Lupi dice devo fare un'intervista al Corriere sui cantieri lì, non riesco a capire, dice l'appunto tangenziale di Milano aprirà nuovi cantieri, in calza dice no non è che apriranno, sono lavori in continuità, prosecuzione? Prosecuzione e questo l'abbiamo deciso, punto, punto e virgola, due punti. Altra domanda di Lupi, quando parli di piccole e medie opere nel sud, perché nuovi cantieri per 400 milioni? Risposta di in calza, perché sono quelli delle opere piccole e medie, quindi anche questo l'abbiamo stabilito, diconsi opere piccole e medie, le piccole e medie opere e questo diciamo ci è arrivato anche Lupi e alla fine ha preso appunti. Il problema è che poi spaziano opere da Trieste a Piombino, da Civitavecchia a Taranto, da Ravenna al Brennero e a Lupi proprio gli scoppia la testa, rischia l'ernia al cervello quando arrivano al capitolo dei cantieri dell'ANAS e dice um invece per ANAS ne abbiamo già appaltati 170 o 107 di cantieri e in calza pazientissimo, partirà una piccola parte, attento a non dire cose che non sono poi vere, questa è una parola, infatti parlando di ferrovie Lupi cita la Pedemontana Veneto, in calza a quel punto vorrebbe sbattere la testa contro il muro, perché gli dice no guarda la Pedemontana Veneto è stradale, cioè il ministro risponde sì vabbè ma non ha capito la differenza fra una ferrovia e una strada, no se non è zuppa è pambagnato, dice sì vabbè non importa, e poi a questo punto non ne azzecca più una perché dice la Pontina invece non parte vero è in calza, ma come no certo che parte la gara è già approvata e vabbè e poi dicono che Lupi sembra la figlia di Fantozzi, in realtà sembra Fantozzi proprio calzato e vestito, salivazione azzerata, sudorazione a mille e occhio pallato e va avanti, proprio non ne azzecca più nessuna, sto porto di Ancona non partono i cantieri vero è in calza disperato, ma sì altro che che partono come no partono in ottobre, a questo punto Lupi chiede una cifra grossa da sparare nell'intervista per farsi bello col Corriere della Sera, magari anche con un disegnino e dice se potessimo dire quanti lavori partono o proseguono, cantieri veri, questo è importante perché lui era abituato a Berlusconi che faceva i cantieri finti sulla lavagna di Vespano, invece questo vuole proprio dei cantieri veri con le betoniere, i caschetti, le robe che si vedano e in calza allora gli scandisce bene le parole sperando che capisca, gli dice circa 8 miliardi di cui 4 e mezzo sono nuovi lavori, ok? Il giorno dopo esce l'intervista sul Corriere, il titolo è oltre 10 miliardi per i cantieri, ce ne ha cannati due, così, tanto per farsi bello, deve avere pianto a quel punto in calza perché con tutta la fatica che aveva fatto era tutto inutile, ecco forse Lupi si è dimesso proprio per questo, perché pensate che cosa avrebbe combinato da solo al ministero adesso che gli hanno arrestato pure quello che gli scriveva i testi, ma la domanda è quanti altri ministri incompetenti ci sono in questo governo che si fanno mettere i piedi in testa dai burocrati e quanti altri in calza ci sono in questo governo? Allora se adesso Renzi pensa di cavarsela cambiando semplicemente la faccia di Lupi per mettercene un'altra a Simil Lupi, magari un fiorentino, magari un renziano, ne ha tanti ancora in serbatoio, sarà la solita gattopardata che fa finta di cambiare tutto per non cambiare nulla, come avviene da 30 anni dove i ministri passano e gli in calza rimangono. Però Renzi potrebbe addirittura stupirci, per esempio invece di cambiare solo le facce cambiando anche testa, mettendo magari come ministro uno che invece delle grandi opere inquinanti, costose e tangentizie potrebbe occuparsi di piccole opere, quelle poco costose, poco appetibili per i tangentisti che creano più posti di lavoro di una grande opera, tipo e poi soprattutto Renzi potrebbe rinunciare così a campione, tanto per dare un segnale a una grande opera inutile. Ne abbiamo talmente tanti che non è difficile, potrebbe rinunciare alla Mestre Orte, quella che ci collega con Danzica senza che se ne senta l'esigenza, oppure al TAV Torino-Lione che è notoriamente la vaccata del secolo. Se non lo fa, peggio per lui e soprattutto per noi, perché la rottamazione continueranno a fargliela i carabinieri e non lui, e il suo governo perderà i lupi, magari perderà pure il pelo, ma il vizio resterà. Bene.